Rappaluce dentro la stanza, questo caldo che alza Io non morirò Io ho una stanza, una scuola di danza nello stomaco Lama! Però non voglio atterrare là, io atterrlo là Frate, atterrlo là E allora atterrlo pure qua Frate, aspetta, aspetta, non uccido un attimo No, non ci sta un'arma Non c'è un'arma, non c'è un'arma Non c'è un'arma Non c'è un'arma Provata Non fa scappare quella con la lama, ci diamo il bottino Ho un fucile Ti ho già fatto 86 Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, dove sta, dove sta Dove sta? Quello ha uno di vita, aspetta Eh vabbè me l'ha rubato Aspetta 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 C'è un altro ancora? Che cazzo sta fa? O ci sono altro? Hai le vabbè le lama? Che fa questo? Hai le vabbè le lama hai? Hai le vabbè le lama? Dai un po' di munizioni di tutto Un po' di tutto Fuori Ma non cazzo di niente Mi da un po' di tutto Ok mattoni Tocca ferro Munizioni Ok munizioni Grazie Ok Un po' di legno Grazie Stiamo Legna non ne ho l'ho sprecato Ma vuoi verra a buildare Io cecchino Dove sta questo? Ucciso Era lì Armi Un qualche tipo di Sono qua Sono qua È preso tutto Sono qua Sono qua Io ho visto armi E' l'ho visto Non mi furia 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 Cosa Io ho una mitraglietta adesso Dai C'è gente con il code Non la vedo Tu la vedi? Si Si Che cazzo Che puto Tutti nel ruoto No no è vivo È vivo È riuscito a ritornare in cima No uno è morto Eh uno è vivo Dove sta? Dai in fondo Con il code Eccolo Wow C'ho 4 kg C'ho 4 kg Senza fare un cazzo Io ne ho una Ma non ho armi ancora Andrò a cruciarvi C'è qua E andiamo a cruciarvi C'è qua Aspetta 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 A 5 a 1 Bella quell'arma che c'hai A me piace La vuoi tu? Vabbè dopo Ora ti serve Ancora continuate a cerchinarmi Dopo la vendo qua Eh ma che Posso la far scoppiare? No Io a malapena ho due le doppie pittorie E' una mitraglietta Dove sta qui? Ucciso Va va Ziziziziz Prendo la scarra Armi A distanza Oh un pompa finalmente Voi due cecchino Voi prendi sto cecchino Va Oh un altro scarra Eh vabbè allora la butto quest'arma A me piace la fanteria epica Forse con un'arma Un drone Oh Oddio Sto belli sti droni Fra la safe L'altro è qua Ci stava cosa Da Se mi sbagli Eh fratta Di tra il culo nostro La safe Eh là stanno i I nei cavi Di qua Segui Segui Tengo una jump Vuoi jumpare? Eh jumpiamo Aspetta 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 Kid medico Vai 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 jumpiamo Vai questo giampiamo e della giampa ma giambi 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 non metta troppo alta per ora per ora poi è abbastanza decente c'è gente laggiù vediamo e prende una persona persone che c'è gente pure qua c'è un chug per te io due pozioni scudo grandi guarda il nostro compleanno in mezzo a tutti chaga fra pobri di almeno però quando fai chaga fra soprattutto quando è rimasto e ho visto ok bella quanti team ci stanno cacchamente jump 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 chi c'è l'ala qua giù ok ciò per me ciò per voi li spariamo da dietro facciamo un botte di zil ok ha giampato è stata da me non c'è ok sta pure da te oh ci sono in volo ok sta arrivando un altro da me sta venendo sta venendo questa è marzella canale comunque ha uno di vita ucciso ha le tre ok oh fra ma che è solo coach ha uno di vita avevo detto che aveva uno di vita mica di surrubare altre kill fra eh questa qua è un pochettino ma non fa niente da borgo tu dove stai? borgo usa solo usa solo aspetta frate sto lontano non ti allontanare hai pozione scudo per me scudo no c'ho niente no c'ho niente no c'ho una giampio persone stai mirando non so da dove oh da là da là stai da 5 ho ucciso ma dai dov'è compagno dietro dietro ecco l'ho visto anche l'ho chiesto più piacere tutta le due parti stanno tu vedi indietro vai davanti oddio dietro stiamo in un panino vai io me ne andrei con una jump eh beh usa 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 c'è l'albero spacca l'albero ah no tu lui mi sa la kill la film o io valla su stagato valla su stagato no valla presa la kill lo pesa manco io ah una me l'ha data ecco ora è morto oh vai vieni qua c'è gente io non ho vita valla scappa 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 ha ammazzato l'ha ammazzato mi sono entrati in bocca copri mi copri mi copri mi sto accendo uno scudone copri il tetto sai su sai su caldo ho fatto credo io uno ho ucciso uno ha 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 ho fatto credo io mi da razzi mi da razzi mi da razzi mi da razzi ragazzi ragazzi 26 è bianco è bianco è bianchissimo grazie ragazzi hanno rifiutato vieni ho sbagliato vabbè ho crescittino uno vai vieni mette la giampa mette la giampa ah questa cosa funziona vabbè voglio morire vabbè voglio morire ho un sceldino per te oh ho forza fa c'è gente là c'è gente là bravo no 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 ucciso uno curami 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 ucciso no curami curami vabbè fare il fare il no ti prego uccidilo ucciso uno 11 kg bravo no dietro dietro c'è un'altra ancora un'altra ancora un'altra ancora oh guapì aiuto vai 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 mannaggia hai una jump? no non c'è la jump hai la jump sì ce l'ho ti prego ti prego ucciso uno bella vai vai metta la jump metta la jump non pi non pi non pi perché rompere c'è questo motivo per evitare è qualcosa a curarmi no eh no airdrop però dobbiamo andare all'airdrop per forza quanta gente c'era in quel punto mamma mia buono fra c'ho 11 non so manco come ho fatto a sopravvivere io quanti kill hai? 3 sto colpendo solo io colpisco e basta che c'ha? oh mi serve fra ottimo coprimi venditero venditero ok tu mi dirai la granate bella eh ci ho scelto di 9 me sì ne ho 2 mamma mia vai giù mamma mia ci ho lanciagranate io hai colpi hai materiali per me sì mi piace te la gara si posso solo questo va bene no in fuoco il mattone mi serviva infatti saliamo su sta montagna è l'unica montagna safe dove stanno eh ma voglio nome e cognome di quelli che mi hanno sparato ok stanno là aspetta ma aspetta non mortano lancia raggio raggio tenta una ma dove ho mangiato bella le coppie razzi oh le hai fatto cadere uno ho mangiato un altro e razzi mi servono per il lanciagranate però te li do qua metà ah no ne ho uno solo che posso darti tieni ne ho mangiati due qua con questa cecchinata bella bella queste cecchinate quanti kill hai tu 5 oh c'era un altro da dietro in fondo una skin iconi eh l'hai vista bravo non posso sparare non ho visione ti servono trappole ne ho sette si vieni oh lì si sta rompettino rompi 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 ah se ne è andato se ne è andato se ne è andato stanno dietro c'è rimasto un set ok non farti cecchinare da qualcun altro ho la safe è lontario da qua dobbiamo andarcene subito ai jump io no ce ne dobbiamo andare subito allora vuoi usci di centro approfitta ora approfitta 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 corri 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 no no noi mi eliminate vi dobbiamo eliminare noi dove stanno ecco davanti a noi ha mangiato uno bravo cazzo tramite cazzo dietro 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 ucciso fermati fermati bravo vieni qua vieni qua bravo siamo contro uno vai 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 verso vai verso vai 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 è scarso è scarso ti beco ti beco me li fanno fatti tutti e due quelli là ok aspetta farmi uccidere me farmi uccidere me posso fare 9 kill io ok